Manuela Morone, una vittoria importante, era soprattutto determinante vincere e tornare alla vittoria. Sì, era importante soprattutto per il Morale, perché dopo due sconfitte consecutive eravamo un po' giù, eravamo un po' attese, come si è visto dai primi set, però dai, siamo andate bene, per fortuna abbiamo preso 3 punti e 4. Ultimo set sicuramente più in discesa, nei primi parziali invece qualcosina la Roma Volley vi ha dato sotto. Sì, ma come ho detto prima eravamo anche noi più tese i primi set, vincendo il primo punto secondo me siamo sciolti e abbiamo cominciato a giocare come sappiamo, e quindi il terzo set è una doppia mission. Siete un grande gruppo, confermi? Sì, siamo un bel gruppo. Questa è la forza di questa Europea 92? Sì, 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 certo. Prossima partita? Traspetta? La prossima traspetta è tosta, è vicino casa mia, quindi sentita e speriamo bene. Bocca al lupo! Crepi!